Appena insediato il nuovo assessore al sociale ha avuto la prima polemica sulla colonia estiva che però partirà, partirà con un solo turno quest'anno, perché? Sì, allora, la colonia parte, quindi questa innanzitutto è la comunicazione che volevo dare ai cittadini soprattutto a coloro che sono interessati e la colonia parte, è un turno solo io sono entrata e ho trovato insomma già questa predisposizione vedremo adesso anche dal numero delle domande che arriveranno se riusciremo casomai a fare un secondo turno così come detto anche il sindaco qualche giorno fa le domande possono essere presentate fino a venerdì e si trovano o sul sito internet del comune oppure qui in assessorato in via d'annunzio La novità di quest'anno è che se fino all'anno scorso si erano andati a Giulianova quest'anno cambiate comune perché andate nel comune di Roseto degli Abruzzi ma a colonia a spiaggia Sì, andiamo a colonia a spiaggia e quindi quest'anno cambiamo, cambiamo mentre gli altri anni è stato sempre Giulianova, quest'anno è un altro comune credo che i ragazzi staranno bene lo stesso Quanti bambini prenderanno parte alla colonia quest'anno se dovesse essere un solo turno? 45 perché gli altri anni erano anche 45, 90 bambini, due turni da 45 ognuno Le possibilità di fare un secondo turno sono attaccate a cosa? Ma ovviamente trovare delle risorse economiche che ci consentano di fare un secondo turno e soprattutto anche di avere il tempo necessario perché dobbiamo fare così come abbiamo fatto per il primo turno, fare una gara e vedere insomma per aggiudicarla quindi dobbiamo avere un po' di tempo e le risorse necessarie ma adesso vedremo quante saranno anche le domande che arriveranno Grazie a tutti